benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e vi presento questo webinar sessione operativa sul file degli short istituzionati che facciamo con Fabio Bolis eccolo qua ciao Fabio buongiorno Alan e tutti gli amici di WeBank allora Fabio di che cosa parliamo oggi e perché dovrebbero vederci sì allora oggi iniziamo come sempre facendo una panoramica del nostro indice vedendo un attimino come gli short hanno influito nel corso di questo mese qual è la situazione attuale e in particolare oggi concentreremo la nostra attenzione sulle date di modifica degli short perché vediamo vedremo che andando proprio a lavorare sul file di Consob già con metodi molto semplici riusciamo a trarre diverse indicazioni proprio sulle date che ci permettono di diciamo così pesare gli short in un determinato modo e quindi queste sono indicazioni semplici e veloci che ci permettono di aggiungere un altro tassello in più l'analisi degli short che ognuno di noi può fare ogni giorno perfetto analisi delle short istituzionali che è un'informazione importante per il nostro trading se volete entrare in contatto con Banco BPM WeBank potete contattarmi al 347 28 03 056 oppure ad alanvincenz.gendusa qui sotto trovate un codice promotore PF 52 118 che è un codice fondamentale da inserire nella richiesta di adesione online sul sito webank.it per ottenere un servizio di eccellenza totalmente gratuito cioè l'assistenza diretta nel trading team della banca bene potete prendere visione del webinar cliccando sul link che trovate in descrizione e come sempre vi ricordo di registrarvi ai nostri numerosi webinar di formazione gratuiti che trovate su webank.it buona visione con fabio bolis